007 e oggi dovevamo battere il boss, l'altra volta non l'ho battuto per un pelo e ho sprecato, non è che ho sprecato, ho usato mille gemme per apportare una modifica importante tipo ho messo il ghiacciato dal gigante e dagli arcieri poi Pasqua mi ha detto che dovrei usare tantissimi arcieri, quello già lo sapevo e appunto i romani, forse hanno messo meglio, forse i romani c'hanno anche più vita ma non mi attiva vabbè proverò a usare la sua tattica dai sto romani durerà tanto vittate via dai madonna guarda i vicini dio caro ho chiuso le finestre così non si sente più niente dio caro penso che ci dovevano mettere anche i vicini dai questo è la ventione che è assolutamente no ma doma che casino stanno a fare scusate non ci posso fare niente dai questa la abbiamo praticamente vinta no ecco qua arrivano i problemi qua arrivano veramente i problemi con i carossi no abbiamo un botto di arcieri da un'altra parte con il gigante loro avanzano un botto se riesce uccide il gigante è fatto dai uccidilo uccisi madonna non so forti che i miei arcieri aspettiamo allora dai ci possiamo anche partire no adesso arriva il boss finale è un casino adesso mi sono messo male dai vediamo non dovrebbe arrivare al boss finale come ha detto pasco questi romani possono durare un bel po' però mi preferisco aspettarmi il gigante mi sta fregando tutti i cosi dai dai abbiamo vinto praticamente dai 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 mi sa che ho battuto il tuo record mi sa che l'ho battuto ok vediamo la fine vediamo la fine disisporto ecco abbiamo battuto il boss finalmente ok e niente aspetta forse ho sbloccato no vabbè e niente abbiamo finito stick war legacy e forse farò una live sui zombie e niente questo era tutto ciao ditemi quale modalità volete in futuro